Il primo gioco è il primo gioco e il primo gioco è il primo gioco. Come ho detto prima, ho detto, è il primo gioco di Stagni. Tutti gli stessi dicono che non stessi. Ma ok, non c'è altro altro da dire, non c'è un gioco per giocare, come ogni gioco vuoi vincere. Non c'è altro gioco, non c'è altro gioco. Non c'è nulla differenza tra noi, loro e noi. Ci sono piaci di riuscire molto, giocare molto, giocare molto, giocare le stagioni, giocano le stagioni, giocano le stagioni simili. Quindi, ciò dipende anche sulle caratteristiche, sulle caratteristiche, sulle caratteristiche, e come si sono piaciuto, come si sono piaciuto, come si sono piaciuto, ciò che ci sono piaciuto. per questo è stato un momento come tutti gli altri, in cui bisognava farciare e vengare molto ci sono molto felice, che è stato proprio questo posto per nami le nostre ragazze, i energie, i arcesi sono podobne le facciali vogliono molto appare, sporo biega, giochiamo piccolo, noi facciamo lo stesso iniziavo, che ci saranno i mi stagione. Sì, questo per amore, che per le cose... che per il compagnie di quanto sia il compagnie a ci siamo arrivati. Il compagnie sarà un'occhia di più che ci sia così. Intanto questo è stato un'occhio e proprio che ci sono stati e lo stiamo stagione. No, i postariamo si, ovviamente, wygrać go, per tutti i scegliere. Abbiamo anche un piccolo progetto, che non avevano mai solito, ma non avevamo 3 o 4 giocatori, ma non avevamo, ma non avevamo, non avevamo, ma non avevamo, ma non avevamo, ma non avevamo. Non avevo da solo, non avevo da solo, ma non avevo, ma non avevo da solo, ma non avevo da solo, abbiamo alcune bambini, i duevi giocatori, quindi ho spero che tutti i ovviamente, ma se non ci sono. Se non stanno, ok, se qualcuno dovrebbe ottenere, se stavamo in un team, cosa che stiamo cercando di uscire. Se qualcuno dovrebbe ottenere, so si vediamo. abbiamo una probleme che sono state da tempo non sono condizioni, nessuno ciò che mi ha detto che siamo un gruppo e se non ciò che si spiega se non è il nostro giusto, ma non è un giusto, ma non ciò che si spiega ma problemi con i compagni ma tutti stanno stanno iniziando a giocatori che sono iniziative e iniziative quindi non ci sono se non può essere se non può essere che ci sono iniziative come ho detto in prima in opening più giocatori con i simili quindi anche i punti di avvicinamento a scoprire a scoprire a scoprire a scoprire a scoprire e abbiamo due ragazzi in cui è la scoprire e anche a scoprire e due scoprire non due, non tre ma sottotitura ma scoprire in scoprire con la giro con l'arrivo con le giro con le giro con le giro con le giro con la giro e giro il giro in cui si tratta a qui m'è o Tutkiewiczu, mi.in. o Tutkiewiczu, na tym będziemy się skupiać. Jest to drużyna, która potrafi zdobywać punkty, cioè cazuronici che potrafi zdobywać punkty pojednokową ilością, więc ciężko będzie zatrzymać jednego, czy dwa się skupi na całej drużynie. Na tym właśnie, na tym pracujemy i mam nadzieję, że ta chwila morda powstrzymam. Ostatnia wysoka poroszka Czarny w swojej hali ze startem. Według Pana, na pewno Pan oglądał ten mecz. Według Pana, David, czym zasłoczył by Pan? I would say, I would say, that the loss, first of all the loss, you won't make any difference with this game. It's completely different. You can be last in the league, playing first in the league. With this kind of rivals that you have, it doesn't mean what stage you are as a team, what kind of shape you are. Are you playing great or not? In that one game, everything can change. That's the first. The second, they didn't do nothing extra extra. They had some problems. Charlie didn't make shots in the league. That was the problem for them, I guess, the way I see it. The second, that's the second, that everyone's playing mech against Trenera, although, here almost in the end even here, we can do a little bit of mech. The game with Gdyni on the way that che iniziavano d'utrima le risposte con la città della città della città, ma iniziavano con i trafiamo rzut di odiuglopo, iniziavano a con i città di città, trafiamo molto a molto più di tratti, in grado si nerwosca druide Czarny dlatego non potrò ilyli i dogonire cosa da l'epoca nic szczególnego Gdynia raczej non accionava a era proprio la dispozizione in cui trafia sporo rzut cosa Czarni non potrò ilyli doggono a non potrò in quanto non potrò v cominci a in questo non potrò e quindi anche segnali il mezzo.